lunedì 17 maggio ariete venere saturno sono alleati vi darete da fare con il partner per raggiungere un accordo tanto sugli obiettivi tanto sui modi e le strategie per raggiungerli meglio non fare incontrare amici comuni ma tra loro assai diversi se non volete creare tensioni toro grazie al sole amico della luna e di plutone grande sarà la carica matutina di energia dove arriverete porterete gioia comunicazione brillante urano nel segno vi donerà presto fortunati cambiamenti e straordinarie opportunità di realizzazione gemelli mercurio venere nel segno in amore vi consentiranno di trovare le parole giuste ma soprattutto di fare un passo importante al quale pensavate da tempo con venere benevola una persona amica potrebbe diventare ancora più importante nella vostra vita cancro il vostro cielo splendente già di primo mattino vi regalerà una forma smagliante e un tale buon umore che lo riverserete su chiunque vi capiterà vicino nelle dinamiche nicopia porterete risposte così concrete e vitali che il partner vi ringrazierà leone proseguendo l'opposizione di saturno dall'acquario sarà meglio che continuate accuratamente ad evitare distrazioni scelte operate distinto non permetterete lottando contro saturno che qualche inquietudine vi sottragga energie preziose vergine con mercurio e nettuno stili pensare a riflettere a fondo sarà molto utile ma non esagerate se non volete finire in inutili elucubrazioni forse vi troverete a dover prendere una decisione che difficilmente poi potrete modificare prudenza bilancia marti avverso terrà acceso un clima di leggera agitazione nella vita con il partner tenete a bada l'impazienza che vi rende troppo critici e precipitosi in famiglia non pensate di fare scelte solitarie se non volete poi dover fronteggiare l'opposizione dei più scorpione saturno contro vi butta un po giù di morale tanta la responsabilità e tanto il bisogno di pianificare gli impegni con metodo e organizzazione con l'azione energetica di puttone se siete single e in cerca di una storia importante avrete buone possibilità sagittario venere in opposizione dei gemelli vi metterà un po alla prova prendete in considerazione consigli di un amico che a cuore il vostro bene con venere giove contrastanti prudenza vi state ficcando in situazioni che poi mostreranno dei limiti capricorno il sole sorride a plutone ma la luna ci bisticcia mattinata segnata da alti e bassi ma avrete l'energia necessaria per superare eventuali contrattempi con venere amica e marte contrario sceglierete la sincerità e anche l'audacia che ignora i tatticismi acquario nel pomeriggio considerata la luna in leone meglio non lasciarvi coinvolgere in cose che non vi riguardano mantenete un atteggiamento indifferente saturno stazione nel segno conoscerete persone di spessore molto vivaci sotto il profilo intellettuale pesci grazie alle ottime istruzioni allargite da nettuno riuscirete ad apportare dei cambiamenti che renderanno il lavoro più efficiente e più veloce susciterete sicurezza e simpatia in coloro che vi girano intorno ne sarete consapevoli e gratificati grazie a tutti grazie a tutti